Lo stanziamento un po' di poco, consistente, che consentirà nel volgere di pochi anni di dare respiro a un'arteria strategica per l'entrata e l'uscita nella città di Palermo. Spero che accettiamo le modi appreviate, si tratta gli anni naturalmente, non si tratta di mesi, però faremo in modo che eventualmente con la premialità si possa arrivare alla protezione. Io sono un grosso autore della premialità, lo dicevo anche l'avvocato. Premiare le industrie che rispettano i tempi e che anzi identificano è l'ottima. Su questo noi vigileremo naturalmente perché faremo in modo che questa legislatura Palermo possa avere, non dico regalo, ma un diritto che l'espetta, maggiore viabilità e un'arteria strategica.